Ecco, già le sette, ecco, un, due, tre, un, due, tre, oh, oh, beh non sono male, eh, tardi. Cos'è un bolide? Lo fai, non mi rispondi sui bolide. E beh, sei un bolide. Non tu no! Non tu no! Li brucio tutti. Ma quello lì dove va? È molto poltrona. Poltrona moto, però... Non tu no! Non tu no! Pronto cara, passo e chiudo? Pronto caro, passo e chiudo. Pronto sì, vorrei un caffè. Caffè pronto, chiudo e passo. Pronto bevo, cado e chiudo. Cosa fanno quelli? Autocortio di scorta, divano letto. Però... Non è male, eh. Tanto no! Tanto no! Lo scotch è pronto. Soda? Sì, ma non esagerare. Sì? C'è Gianmarco di Brasilia. Dovevi vendere, non comprare. Ma non vedi che... Quella sì che è vita. Ah, se avessi l'erba voglio. Ehi! L'erba voglio cresce nei... Charms! È il concorso più libero dell'anno. Nei Charms migliaia di erbe voglio. Da 25.000 lire fino a 5 milioni. Trova l'erba voglio e vinci tutto quello che vuoi. Con 50 lire scegli il tuo Charms preferito. Nei Charms trovi tutto quello che vuoi. Persino le supermente speciali per l'estate. Charms! Oh che bello, faccio anch'io. Ah!